Cari colleghi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete collegati in questo momento dalle vostre farmacie. E' un grande saluto anche a tutti quelli che invece, non potendo lasciare il banco, questa sera o domani si collegheranno al sito di Federfarma e guarderanno questo nuovo modo di fare comunicazione, un nuovo modo di fare formazione. Perché siamo qua oggi per un progetto che è nato tra Federfarma e una grande azienda farmaceutica che è la GSK. E' importante il rapporto con le aziende farmaceutiche ma non c'è bisogno di stolinearlo. Un progetto che nasce vari anni fa, vi ricordate? Molti di noi hanno formulato e risposto a un questionario che è stato molto importante perché ha di nuovo dimostrato come in Europa la farmacia italiana sia sicuramente la migliore, ma quanto invece possa ancora fare nei progetti di pharmaceutical care. E così è nato questo progetto che si chiama Le Cento Province, di cui oggi è il primo momento. Un primo momento di formazione con due professionisti importanti, due uomini che dedicano la loro vita alla cura della DBCO, il professor Blasi e il professor Canonica. Poi un grande impegno di Federfarma, mantenuto da me e dal vicepresidente Gioachino Nicolosi. Infine un grande impegno della nostra promofarma con le piattaforme che il dottor Gianni Petrosillo vi dimostrerà. Quindi oggi parleremo di formazione, parleremo di BBCO, parleremo di questo progetto a cui seguirà poi un FAD, un importante FAD e infine la presentazione delle piattaforme per poi fare concretamente della pharmaceutical care all'interno delle nostre farmacie. Perché? Perché la pharmaceutical care? Per tanti momenti, perché per tante cause, perché fortunatamente si vive di più, quindi c'è un invecchiamento della popolazione e c'è naturalmente quindi un aumento delle patologie croniche, quindi cure sempre più costose, a cui il sistema sanitario nazionale deve fare fronte. Dobbiamo contenere la spesa, ma dobbiamo anche mantenere levanti stande di qualità come il nostro Paese ha. Ricordiamoci che il nostro sistema sanitario nazionale è forse rimasto l'unico sistema sanitario universale. Quindi l'assistenza garantita in tutte le aree del Paese e in tutti i cittadini italiani. E quindi dobbiamo coordinare, dobbiamo coordinare meglio le attività tra ospedale e territorio, proprio quindi per razionalizzare questa spesa, ma naturalmente quindi per rendere sostenibile questo sistema. Avanti. Noi siamo una grande rete, siamo 18.000 farmacie, anche 18.500. Abbiamo dimostrato quanto la farmacia sia importante per un collegamento che tutti noi abbiamo nella rete. E la farmacia è importante, se si può passare alla diapositiva precedente. L'altra ancora? No, allora non stanno... No, indietro, grazie. Ancora indietro, grazie. Ancora indietro. Ecco, era questa. Allora noi siamo una grande rete, una grande rete di farmacie su tutto il territorio. E questa rete è stata dimostrata, proprio il ruolo delle farmacie è stato dimostrato in tutti i documenti degli ultimi anni, del patto della salute, in tutti i documenti economici e finanziari degli ultimi anni, dalla conferenza Stato-Regione che ha approvato le linee progettuali di intervento, dal patto della salute. E presto inizieremo a firmare una nuova convenzione, a lavorare per una nuova convenzione, che è il patto che unisce le farmacie al sistema sanitario nazionale, una convenzione moderna in cui la farmacia autica al chiaro sarà sicuramente la protagonista. Perché tutti insieme? Perché siamo una grande rete, come dicevo, fatta di 18.000 farmacie. Stiamo aumentando in questo momento a seguito dei concorsi. Una rete che è collegata, che è collegata tutta insieme. Quindi dobbiamo assistere il cittadino che già ci premia, ma dobbiamo migliorare i nostri servizi, dobbiamo dimostrare che il nostro lavoro può ridurre ricoveri inutili e naturalmente quindi portare sinergie fra tutti gli operatori e risparmi a sistema sanitario nazionale. Abbiamo chiuso un importante lavoro, non soltanto con gli specialisti, ma un importante accordo con i medici di medicina generale, con la FIMG. E questo, cari colleghi, è molto importante. È stato visto veramente come un grande impegno che Federfarma e FIMG hanno chiuso sul territorio. Perché siamo entrambe le figure che stanno sul territorio. E allora perché insieme? Insieme per favorire la decimiliazione delle cure, per realizzare prevenzione. Abbiamo parlato tanto di vaccinazione, ma anche di nuovi farmaci che devono ritornare sul territorio. E naturalmente diciamo quindi appunto l'aderenza alla terapia. Quindi molto importante questo incontro che abbiamo fatto con FIMG e con loro, come sapete, ma tutti voi con i medici continuiamo a lavorare. Ancora avanti. Dobbiamo quindi continuare a monitorare le terapie. Perché lo dobbiamo fare? Perché la gente prende molti farmaci. Abbiamo detto quanto ci sia un aumento dell'invecchiamento delle popolazioni. E addirittura gli ultra 65 anni consumano a volte dal 5, 9, 10 farmaci al giorno. E quindi addirittura un milione e 4 di persone consumano più di 10 farmaci al giorno. Quindi è importante garantire il corretto utilizzo dei farmaci. Perché vuol dire non soltanto migliorare la qualità della vita, ma anche risparmiare. Eccoci qui quindi oggi a parlare di questo. Il mio è soltanto un primo intervento. Ma poi lascerò la parola ai professori, al professor Canonica, al professor Blasi. E infine i due uomini di Federpharma, Gioacchino Nicolosi e Gianni Petrosillo, vi faranno vedere l'impegno di Federpharma. Quindi continuiamo a lavorare sul territorio, continuiamo a investire nelle nostre farmacie. Abbiamo dimostrato tante volte quanto la farmacia fa risparmiare il sistema sanitario internazionale, ma quanto sia vicino alla salute della gente. Oggi lo dobbiamo fare in una maniera nuova, in una maniera ancora di maggiore alleanze fra le grandi aziende, i grandi medici e le grandi farmacie. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti. Il mio compito oggi è di parlare del paziente asmatico e dell'aderenza ovviamente del paziente alla terapia, che è una delle problematiche fondamentali. Ovviamente il mio conflitto disclosure of interest è doveroso essendo un ECM. In realtà la problematica nelle malattie respiratorie è pesantissima. Perché è pesantissima? Guardate il dato. Chiedo scusa, il pointer non c'è qui? se c'è. Bene, se no c'ho il mio. Ah, perfetto. Ok, guardate. Qui sostanzialmente noi abbiamo che negli ultimi anni in realtà non abbiamo un'aderenza in questo tipo di patologie superiore al 14%. E quindi vuol dire che leggendo dall'altra parte della medaglia, l'86% non fa la terapia come dovrebbe seguirlo. Abbiamo delle bellissime linee guida. Io vi porto qui quelle del GINA, cioè dell'asma. Qual è il vero problema? Il vero problema, come abbiamo riscontrato, che le linee guida non sono sufficientemente seguite. E mi permetto di dire che questo è un problema della pneumologia, ma ad esempio è un problema anche della cardiologia e dall'altra parte del mondo. In Australia lo scompenso cardiaco in realtà non è seguito, la terapia non è seguita correttamente come da linea guida. Siccome io amo i film, direi che sostanzialmente ci troviamo in un lost in translation, cioè abbiamo delle ottime linee guida, poi in realtà la traduzione pratica della cosa non avviene. Si può fare qualche cosa? Beh, guardate, questo è anche qui. Dall'altra parte del mondo, in Cina, uno short term educazionale, sulle linee guida ha aumentato l'aderenza alla risposta è sì. Noi con AIFA abbiamo fatto due studi, uno condotto da Giovanni Viegi, uno condotto da Fulvio Braido, entrambi con un momento educazionale di ECM sui medici di medicina generale, ha comportato un miglioramento di questo. Cominciamo a fissarci su una parola, educazione. Allora, il controllo dell'asma. Questi sono dati a sinistra internazionali e a destra nazionali. E voi vedete che già la situazione per quanto riguarda il controllo dell'asma non è certo delle migliori. E in realtà uno studio bellissimo fatto da Marco Caminati e Gianerico Senna riguarda praticamente tutta l'Italia. Ed è stata fatta sui medici di medicina generale. In realtà che cosa si è osservato? Guardate, che il controllo dell'asma non c'è oltre il 35% dei pazienti. laddove diciamo che abbiamo un buon controllo solo nel 50%. Bene, questo che cosa significa? Significa ospedalizzazioni, significa visita in pronto soccorso. Ma guardate un pochettino un vero problema. L'uso dei Saba. Possiamo fare il nome, il Ventolin, che viene usato regolarmente come rescue medication. Cioè quando il paziente ha i sintomi e l'attacco. Ci torneremo su questo perché è molto importante. Bene. Valutando il controllo, la cosa impattante, chiedo scusa ma questo è importante, non è solo nell'asma severo. Ma al non controllo c'è anche nell'asma intermittente, lieve e moderata. Questo chiaramente significa mancanza di terapia ad hoc. In un altro studio che abbiamo sottomesso e che riguarda nelle community pharmacy in Italia, sono state coinvolte 37 community pharmacy, è stato ovviamente trovato che con un asma action plan è possibile migliorare il tipo di aderenza. E qui è uno studio fatto in... è molto importante questo perché è nella vita pratica che si risolvono le problematiche. Allora guardate, in Australia purtroppo hanno una prevalenza di asma altissima. Questo studio ha dimostrato che una implementazione delle linee guida possa essere estremamente utile. Hanno un piano per quanto riguarda il farmacista e l'uso del Saba, del Ventolin o della Terbutalina. Bene, guardate però il punto H che ho estratto. Il punto H vi dice che il farmacista deve avere la percezione del paziente e ovviamente deve intervenire per la corretto utilizzo di questo. Bene, qual è il problema? Asma action plan, purtroppo degli strumenti di questo tipo non vengono praticamente utilizzati. Laddove vi dico che questo mi ha colpito. Per quanto riguarda il Saba, cioè il Ventolin, se il farmacista, diciamo, fatto sicuramente aveva cognizioni, l'assistant pharmacy aveva zero cognizione per quanto riguarda l'uso corretto del Ventolin nelle linee guida. E questo chiaramente è una problematica visto che in realtà per quanto riguarda le barriere la farmacia ovviamente ha un ruolo fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare con la sintomatologia. Quindi è chiaro che interventi diretti sugli health professional devono essere ovviamente investiti al meglio. Che cosa, visto che di investimento sto parlando, in realtà negli Stati Uniti è stato trovato che la spesa è di 100 miliardi di dollari in ospedalizzazioni che potrebbero essere evitati se i pazienti prendessero le medicine. Ergo una quantità di soldi enorme. È vero che non è che mal comune potrebbe essere mezzo gaudio. Purtroppo non è così. Le statine, anche in persone che hanno avuto un fenomeno, una sindrome coronarica acuta, non raggiunge l'aderenza del 50%. E lo steroide nell'asma? Guardate, la dramma è che se è vero per l'adulto, è vero anche per il bambino, a distanza di un anno nessuno fa più il trattamento. E una review sistematica ha dimostrato che in realtà sia il paziente pediatrica sia l'adulto è in grado con un'aderenza buona di avere ovviamente un outcome decisamente migliore. Quali sono le razioni della non aderenza? Beh, noi qui abbiamo un problema fondamentale che è l'inalatore. Cioè, se già le società scientifiche si erano espresse in questo senso. E mi permetto di dire che una delle raccomandazioni era non basatevi solo sul costo di quello che può essere, ma dobbiamo valutare anche la qualità di quello che può essere l'inalatore. Avete idea se voi date un inalatore con le istruzioni quanti sono i pazienti che sanno usare l'inalatore? 21%. E se fate una educazione solo al paziente raggiungete il 50%. Leggiamola sempre nell'altro senso. Vuol dire che il 50% comunque esce dallo studio medico e non sa come usare opportunamente l'inalatore. E se cambiamo l'inalatore abbiamo una caduta ulteriore di quella che è l'aderenza. E' chiaro che il paziente può essere confuso. E' chiaro che oggi l'importanza del generico, come voi vedete, ma il farmaco generico è importante, ci dobbiamo investire sicuramente. Ma un conto è quando si parla di una tablet o di una compressa. E un conto è andare a dimostrare la bioequivalenza etal quando noi parliamo di inalatori. Perché è chiaro che questo, l'inalatore, ha caratteristiche differenti e alcuni sono stati sviluppati per le caratteristiche specifiche del prodotto, ovviamente, che doveva essere inalato. Ergo, noi ci troviamo in una situazione di confusione. E se il paziente si ritrova ad avere più device, più inalatori, non dico che vada nel panico, ma sicuramente non aderirà alla terapia. Ed è stato calcolato, che Fulvio Braido lo ha fatto, ma anche Francesco Blasi è sottoscritto, che se noi andiamo a vedere quanti sono i brand, quanti sono gli inalatori, abbiamo centinaia di possibilità di avere degli incroci. E quindi complicare la vita ai nostri pazienti. Allora, cambiamo o non cambiamo gli inalatori? Abbiamo preso una posizione ufficiale come società scientifiche che non può essere cambiato l'inalatore se non c'è un momento fondamentale, che è l'educazione, anche per quanto riguarda il corretto uso dell'inalatore. Qui vado a un dato della Real Life. In un progetto che avevamo condotto come società scientifiche respiratorie e di allergologia, avevamo trovato un dato estremamente importante in Italia, e pubblicato ovviamente, che cosa? Che ha la domanda al paziente, ma sei disposto a cambiare l'inalatore? La risposta è sì. Però, gradisco che qualcuno mi spieghi come funziona. O meglio, sono disposto, ma gradirei che chi me lo spiega sia il mio medico. Poi la risposta ancora più bella è fate una cosa, potete cambiarmi le medicine lasciandomi lo stesso inalatore, visto che io lo conosco e lo so già usare. In realtà, in un altro studio, avevamo dimostrato che cosa? Che esiste una dicotomia di risposta rispetto a quello che dice il medico e dice il paziente per il tempo che viene dedicato all'educazione del paziente stesso. Che significa? Spiegargli che malattia ha. Ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il paziente si cura se capisce che malattia ha. E in realtà, solo il 25% del tempo viene dedicato all'educazione del paziente durante la visita. Se la visita del medico di medicina generale è 8 minuti, è chiaro che il problema è impattante. Abbiamo ritradotto quello che era il manifesto delle società scientifiche e voi vedete che abbiamo identificato che tutti i giocatori, tutti i players, devono giocare il loro ruolo in questo senso. Ivi compreso adesso una nuova società che si chiama Reg Real Life Group che ha identificato anche come si deve andare a studiare il paziente a differenti tipologie o fenotipi che possono essere migliorati rispetto ad altri per quanto riguarda l'aderenza. Esistono interventi a basso costo, ovviamente, e anche qui fondamentale l'educazione nel rapporto col paziente, che è dipendente dal tempo che noi dedichiamo a istruire il paziente stesso. Esistono dei dati in questo senso? Sì. Negli Stati Uniti il miglioramento e i risultati sono tenuti sempre. Il clinical pharmacist, francamente non so se in Italia abbiamo una figura di questo tipo, però sicuramente è efficace. le nurses, cioè gli infermieri, però, sono intesi in un modo diverso nel mondo agglossassine. L'educazione, in questo senso del paziente, ha dato dei risultati positivi. In Italia voi sapete che abbiamo fatto una bellissima campagna sull'aderenza ed è stata fatta con Federpharma. Siamo in attesa dei dati definitivi, ma sicuramente questo è stato un grosso progetto che permette proprio di accorciare quella che è la distanza tra il medico e il paziente per quanto riguarda l'aderenza. Ad alto costo, la tecnologia sta avanzando. Hanno provato ad ammigliorare con l'intervento telefonico. Posso dirvi, farvi sorridere, l'unica cosa che hanno dimostrato è che se un paziente non va a pigliare in farmacia la medicina dopo tre richiami telefonici non ci va più. Direi che tutto sommato è troppo costoso pensare di richiamare ogni paziente in questo senso. Però oggi esiste la possibilità di fare un coaching con le nuove tecnologie e gli smartphone si sono dimostrati efficaci. Addirittura a Londra si parla già del paziente digitale. Paziente digitale che ovviamente la mobile health ci sta dando in questo senso. Voglio farvi uno scorso di quello che abbiamo recentemente evidenziato. Allora, lasciamo stare questo. Però i pazienti italiani, almeno il 32%, usa internet per andare a vedere se ha notizie riguardante la salute. Ma il 90% cerca della sua malattia specifica e il 60% va a vedere qual è il medico da cui si potrebbe rivolgere per avere qualche parere più qualificato. La cosa, se volete, è divertente che di app sugli smartphone per le malattie in generale ne abbiamo 13.000 per l'iPhone, sto parlando del 2012, e 6.000 per Android e per l'asma. Nel 2014 eravamo già a 209 app. Beh, possono essere utili? Sicuramente lo saranno. Anche perché se noi riusciamo a lavorare con un Asma Action Plan, sicuramente i risultati ci sono. Abbiamo anche l'altra possibilità, quella di monitorare con dei device particolari sull'inalatore l'aderenza. Questo è alto e costoso, anche se funzionale, vi voglio far vedere quello che è un'ipotesi per il futuro. Questa mi salta continuamente. Però è importante perché può essere legata a molte confezioni. dà i dati su una cloud e l'Università di Shanghai ha già fatto un dato che sarà importante per tutti noi. Perché il paziente manda i dati a una cloud, il medico può valutare e modificare la terapia e poi tutti i dati vengono storati in un database che ci permette di valutare il tutto. Voglio concludere rapidamente. C'è un problema. Il più importante giocatore è il paziente. E quando si parla di aderenza, spesso si è confusi tra quelli che sono gli studi clinici e quella che è la vita reale, la pratica clinica. Questo è vero anche se voi pensate alla selezione dei pazienti. Perché? Perché nelle selezioni dei pazienti, i pazienti devono essere selezionati se hanno la comorbidità, vengono esclusi, se sono fumatori, vengono esclusi. Sono sostanzialmente dei bellissimi pazienti che non esistono nella pratica clinica. In realtà questo è magari il paziente che ci si presenta con comorbidità, fumatore e allora dobbiamo ragionare su quella che è nella pratica clinica la problematica. Allora la problematica è, c'è un progetto e come voi vedete è sempre basato sulla partecipazione del paziente sulla empowerment del paziente, sulla responsabilizzazione del paziente e quindi si conclude con la medicina dell'oggi, la medicina che Iroy Hoog ha creato, o quantomeno ha disegnato. Lui è un biologo, non è un medico, che però si è occupato e ha fondato l'Institute for System Biology che la P4 Medicine, a differenza di quella precedente, è predittiva, prefentiva, personalizzata e partecipatoria. In altri termini il messaggio vero è andare nei prossimi vent'anni a, rivoluzionando dalla biotecnologia ovviamente, andare a manage, a gestire la salute della persona e non a gestire la malattia della persona. Io con questo ho concluso. Bene, buongiorno anche da parte mia. Io affronterò invece il discorso dopo l'asma, la problematica relativa alla BPCO, cioè la broncopremopatia cronico-ostruttiva. Giusto due notazioni su quello che è la malattia. La malattia è una malattia importante, è responsabile di circa il 50% dei decessi per patologie respiratorie. In realtà, se voi guardate i dati generali sulle malattie non comunicabili, è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le malattie tumorali. Ha una epidemiologia interessante perché la prevalenza è tra il 4 e il 6 e il 7% della popolazione. Questo vuol dire che ha un impatto sul sistema sanitario molto importante. Se noi teniamo conto del mondo, ci sono più di 350 milioni di morti legate alla malattia. E questo ha un costo importante e se noi consideriamo solo i pazienti sopra i 65 anni, il costo per il servizio sanitario è calcolato tra 1 miliardo e 400 milioni fino a 2 miliardi e 400 milioni. Se consideriamo sopra i 40 anni, andiamo a oltre 4 miliardi e 500 milioni, quindi un costo molto elevato che dipende da molte cose, ma in particolare nella problematica relativa alle riacutizzazioni e alle ospedalizzazioni dei pazienti. Come si fa a fare la diagnosi di BPCO? La diagnosi di BPCO si basa sostanzialmente sulla anamnesi e quindi la raccolta di quelli che sono i fattori di rischio, alla presenza dei sintomi respiratori, in particolare tosse, catarro e mancanza di respiro e dispnea, e dalla dimostrazione dell'ostruzione al flusso aereo attraverso un esame molto semplice che è la spirometria. Qual è il problema fondamentale della malattia? Abbiamo detto un'alta prevalenza trattati il 30% dei pazienti. Questo perché? Perché il 60% o il 70% dei pazienti, in tutti gli studi epidemiologici nel mondo, non sono diagnosticati. Questo per un ritardo importante nella diagnosi, perché il paziente BPCO, la cui affezione fondamentale è legata al fattore di rischio fondamentale, il fumo di sigaretta, quando la tosse e il catarro si guarda bene dall'andare dal medico, perché il medico gli dirà di smettere di fumare e quindi eviterà il contatto, finché non c'è un sintomo importante, la mancanza di respiro. La dispnea però compare in fase tardiva, quando la malattia ha già compromesso in maniera importante la funzione respiratoria. E quindi diventa fondamentale un processo che è il case finding, cioè andare a una medicina proattiva che va a cercare il malato. E quindi una identificazione e selezione dei casi da prendere in carico. E chi sono gli attori? Beh, abbiamo dei primi attori e dei co-protagonisti. I primi attori sono il medico di medicina generale e il farmacista, perché sono le persone, le figure del sistema sanitario, che vengono in contatto per primi con i pazienti e che possono identificare i pazienti nelle fasi più precoci. Come co-protagonisti ovviamente abbiamo gli pneumologi, gli internisti, i geriatri, che però spesso vedono il paziente quando già ci sono i sintomi, in particolare la dispnea. Come possiamo fare il case finding? Ma una cosa molto semplice, suggerita dalle raccomandazioni italiane, è quello di utilizzare dei questionari molto semplici, in cui si fanno cinque domande, per esempio se il paziente tossisce di frequente, se ha tosse con catarro, se le manca il fiato nel compiere attività semplici, se rispetto al suo coetaneo fa più fatica a compiere sforzi, per esempio camminando insieme si deve fermare prima degli altri, oppure ha rumori nel torace, quindi fischi, sibili, quello che sia. Ora se un soggetto ha più di 40 anni ed è fumatore o un ex fumatore risponde sì a una di queste domande, questo già è utile per identificare i pazienti che dovrebbero fare la spirometria. Quindi questo è un dato che può essere fatto, è un questionario che può essere somministrato molto semplicemente dal medico di medicina generale, ma anche dal farmacista. E perché il farmacista cosa ha sostanzialmente, abbiamo parlato già, la dottoressa Rack ha già accennato alla pharmaceutical care, questo in realtà è un punto fondamentale, perché il case finding si inserisce proprio in questo contesto, nel contesto di un'attività proattiva da parte dei farmacisti nell'identificazione dei casi. E la somministrazione del questionario, oppure l'uso di leaflet informativi, queste sono cose molto semplici, adesso vi farò vedere qualche esempio, e tenendo conto che il rapporto tra farmacista e cittadino è un rapporto che non ha nessun'altra figura nel sistema sanitario, è un rapporto unico in cui c'è una possibilità di veicolare informazione da parte del farmacista al cittadino e quindi facilitare in realtà alla fine il rapporto medico-paziente, perché è un paziente più informato e più facilmente gestibile anche dal medico. Questi sono dei leaflet molto semplici, prodotti dalla Società Europea di Malattie Respiratorie, l'European Restory Society, e dalla fondazione, dalla Lung Foundation, sono in diverse lingue, tra cui l'italiano. Vivere bene con la BPCO, c'è la spiegazione di che cos'è la BPCO, qual è la prevalenza, quali sono le cause, e c'è una bella immagine delle sigarette che toglie ogni dubbio su quale sia la causa della BPCO. C'è la spiegazione di cos'è la spirometria, quindi nel momento in cui si propone la spirometria c'è anche un semplice testo che spiega che cos'è la spirometria, come si fa e quando si deve fare. Consigli pratici, che sono poi quelli che chiedono i pazienti, che spesso i pazienti chiedono al farmacista. Ci sono alcuni consigli pratici sulle vaccinazioni, su come valutare il tempo libero, persino sulla attività sessuale, sulle vacanze, l'abbigliamento più idoneo, e quindi sono una serie di fattori importanti. Ancora il dato importante su quelle cose che possono peggiorare la malattia. Per esempio, continuare a fumare, non effettuare la terapia consigliata. E questo è un primo passo, un primo seme di quello di cui discuteremo più tardi, sull'aderenza. Certamente ci sono poi i segnali che possono attivare il paziente per una situazione di emergenza o di peggionamento, e quindi la presenza di aumento della dispnea, il gonfiore delle gambe e dei piedi, oppure la mancanza del respiro importante, che sono tutti segnali che devono portare a un controllo più ravvicinato. Ora, noi parliamo sempre di appropriatezza terapeutica. Che cos'è l'appropriatezza terapeutica? In realtà si parla di una prestazione appropriata se è efficace, ma soprattutto se viene erogata alle persone giuste. E quindi tale da avere alcune caratteristiche, esserla più idonea e tempestiva e continua per renderla efficace. Però per avere questo, in realtà, l'aderenza è uno dei punti fondamentali. No, scusate che ho saltato una cosa. Per arrivare alla proprietà gestionale, bisogna avere una proprietà diagnostica. E la proprietà diagnostica è, chiaramente, passa attraverso una collaborazione attiva tra farmacista, medico di medicina generale e specialista pneumologo, perché bisogna seguire un percorso gestionale, quindi identificare il paziente col case finding, effettuare la spirometria per fare la diagnosi. Ma questo non è sufficiente, perché la spirometria, che è fondamentale per la diagnosi, non è l'esame che mi permette di identificare correttamente il percorso terapeutico del paziente con la BPCO. Io devo fare un passo successivo, che può essere fatto solo dalla specialista, con la spirometria globale, il test della diffusione, il test del cammino, che mi permettono di identificare al meglio qual è la causa della BPCO e quindi gestire al meglio il trattamento. Se io informo il mio paziente e gestisco il mio paziente correttamente, arrivo a quello che è l'aderenza, che è un punto fondamentale. Ancora qui, nella gestione della pharmaceutical care, l'aderenza e il monitoraggio delle terapie farmacologiche è fondamentale. Credo che poi ne parleremo diffusamente e certamente, soprattutto, questo punto del collegamento in rete delle farmacie è un punto importante che discuteremo nelle prossime relazioni. Ancora, questo l'ha già fatto vedere il professor Canonica, ma rientra ovviamente nell'idea che la non aderenza costa e questi sono un report delle NICE, che sono le linee guida gestionali inglesi, che sono molto osservate anche in Europa. E quello che si dice sostanzialmente è che il trattamento corretto della malattia e quindi l'aderenza porta a una riduzione dei costi. O se lo guardiamo dall'altra parte, come piace al professor Canonica, in realtà la mancanza di aderenza porta a un aumento dei costi, perché porta a un aumento dell'uso dell'ospedalizzazione e delle visite per riacutizzazione. Quindi questo è un dato fondamentale. Certamente l'asma e la BPCO sono malattie che hanno un alto rate di non aderenza e questo porta, anche se la prevalenza è molto più bassa rispetto per esempio alle allergie, però l'aderenza è molto bassa e questo è un costo. Se noi andiamo a vedere qual è a un anno la persistenza della terapia nell'asma e nella BPCO, ribadendo i dati fatti vedere dal professor Canonica, in realtà abbiamo che nei pazienti con la BPCO solo il 16% dei pazienti a un anno è ancora in terapia e questo è un dato fondamentale ed importantissimo, perché questo comporta un raddoppio di quello che è la mortalità. Se io sono aderente meno dell'80% o più dell'80% ho un raddoppio della mortalità e ho un raddoppio delle ospedalizzazioni. Quindi anche tenendo una soglia alta dell'80% di aderenza la differenza è importante. e in realtà questo è vero non solo in termini di mortalità o di ospedalizzazione ma anche di assenteismo dal lavoro. Quindi c'è un costo sociale anche e sicuramente asma e BPCO sono le malattie che più facilmente e in maniera più importante danno conto dell'assenteismo dal lavoro. Quali sono i fattori che in realtà incidono sull'aderenza? Certamente il fatto che noi dobbiamo usare terapie inalatorie questo è un dato importante perché le terapie inalatorie hanno un'aderenza di per loro più bassa rispetto a prendere la pastiglia e ci sono diversi fattori che sono importanti tra cui abbiamo già discusso col professor Canonica le problematiche relativi agli inalatori. Certamente gli inalatori sono un problema l'altro punto è la conoscenza della malattia. La conoscenza della malattia questo è un dato che abbiamo pubblicato insieme al professor Canonica tre anni fa è un'indagine della DOCSA sulla popolazione italiana sulla conoscenza delle malattie. Asma solo il 52% della popolazione italiana conosce che cos'è l'asma ma se andiamo a vedere la conoscenza sulla BPCO il 14% della popolazione sa cosa è la BPCO. È chiaro che se io non conosco la malattia non sarò aderente nel trattamento e d'altra parte se di questa popolazione prendiamo i malati e gli chiediamo voi prendete tu prendi la terapia c'è un 65% che dice certo io la uso normalmente però poi gli chiediamo ma quando la usi? La terapia viene usata per la gran parte 32% più 25% durante le fasi acute e quindi questo è un dato molto importante perché vuol dire che il paziente tende a utilizzare i farmaci solo quando sta male e questo è un allarme vero l'ho fatta più complicata di quella del professor Canonica però questa è la realtà abbiamo un numero di device molto importanti c'è una continua per fortuna una continua innovazione nei device che consentono di avere device sempre più efficienti e sempre più facili se vogliamo da usare però certamente è importante educare il nostro paziente è già stato sottolineato dal professor Canonica e l'educazione coinvolge tutti gli operatori incluso il farmacista e coinvolge tutti i cittadini e coinvolge i pazienti ci sono la necessità abbiamo visto di far conoscere la malattia alla popolazione e di d'altra parte educare i pazienti alla gestione della propria malattia queste sono le linee guida europee che dicono che il medico che dà il device e il farmaco deve conoscere il device deve sapere vantaggi e svantaggi di ognuno di ciascun device deve scegliere il device per il paziente perché non tutti i pazienti possono usare correttamente tutti i device e quindi la utilizzazione deve essere sottoposta a un check quindi allenare il paziente controllarlo regolarmente perché abbiamo visto come diceva il professor Canonica che anche se io educo il mio paziente solo il 50% il 52% è in grado di usarlo uscendo dallo studio se io lo rivedo devo ritrenarlo quindi questa è una cosa importante e attenzione non facciamo nessuno switch senza educare il nostro paziente questo l'abbiamo detto perché ci vuole una medicina partecipatoria cioè il paziente deve essere deve avere il cosiddetto empowerment cioè deve essere parte della gestione della propria malattia e sicuramente questa è la campagna 3C che al professor Canonica a me piace molto perché è stato un momento ed è tuttora un momento importante di collaborazione tra le società scientifiche di malattie respiratorie di allergologia immunologia clinica e le farmacie è certamente un momento importante perché a breve avremo i dati di un intervento fattivo a livello delle farmacie per aumentare l'aderenza alla fine che cosa qual è il messaggio il messaggio è che abbiamo detto la gran parte dei pazienti non è nota al sistema abbiamo 60-70% dei pazienti di BPCO non noti quindi abbiamo una sottodiagnosi importante abbiamo un'aderenza bassa abbiamo visto i dati OXE 13% dei pazienti è aderente alla terapia a un anno solo il 15% 13-14% dei pazienti è ancora in terapia quindi certamente noi trattiamo solo un piccolo gruppo di pazienti e questo è da una certa parte un problema ma dall'altra parte una grande opportunità di potenziali interventi per la gestione migliore dei nostri pazienti e quindi l'aderenza è certamente importante il coinvolgimento del nostro paziente nella gestione della propria malattia fa sì che in realtà l'aderenza sia in fondo una responsabilità morale dei nostri pazienti perché noi diamo un servizio diamo dei farmaci e se il paziente non li usa in qualche modo fa spendere alla società non solo per i farmaci ma per tutte le conseguenze della non aderenza che abbiamo visto quindi certamente dobbiamo supportare il nostro paziente in ogni modo perché sia aderente e certamente l'educazione è chiaramente il punto fondamentale da sfruttare per migliorare l'aderenza e sull'educazione intervengono tutte le figure che vengono in contatto col cittadino e con il paziente e quindi dal farmacista al medico di medicina generale allo specialista e quindi possiamo veramente parlare di un team work per la gestione della BPCO a livello della nostra società vi ringrazio per la vostra attenzione buongiorno allora adesso illustriamo allora il strumento che Federfarma ha messo a punto in collaborazione con Promofarma proprio per gestire i progetti di Pharmaceutical Care nel contesto dei temi trattati e della collaborazione che serve per creare quel team work di cui abbiamo di cui ha parlato il dottor Brasi che cos'è una piattaforma informatica nasce proprio in collaborazione dalla collaborazione dal protocollo d'intesa con GSK per gestire e partita proprio per gestire le patologie croniche respiratorie si è poi pensato di svilupparla come piattaforma per la più complessa presa in carico del paziente cronico sapete che le patologie croniche rappresentano circa 70-80% della spesa del Fondo Sanitario Nazionale e quindi è in questo contesto che possiamo svolgere un ruolo importante per il sistema come è strutturato è strutturato su tre obiettivi particolarmente segue un'informazione di carattere sanitario abbiamo pensato che per essere interessante sia per il cittadino che per la farmacia debba avere anche un processo di fidelizzazione del cittadino verso la farmacia e ovviamente un'attività di monitoraggio del paziente cronico nella corretta assunzione del farmaco informazione sanitaria allora la piattaforma sarà aperta diamo una data di partenza sarà aperta dal 18 di maggio prossimo e può essere liberamente navigata il cittadino la farmacia può accedere in una parte pubblica dove ci saranno delle informazioni di carattere sanitario sia generale sia per temi specifici soprattutto che riguardano le patologie croniche i contenuti sono tratti da siti istituzionali oppure sono tratti da pubblicazioni e curati o redatti da comunque da un board scientifico quindi da specialisti di ogni specifica patologia il visitatore può entrare il cittadino può entrare può anche effettuare una registrazione che poi vedremo per sviluppare altre attività per quanto riguarda la fidelizzazione dicevo la piattaforma permette di creare un dialogo diretto tra cittadino e farmacia è un dialogo che si sviluppa su due fasi la farmacia si può registrare e promuovere a sua volta la registrazione del cittadino da qual momento la farmacia può inserire dei informazioni che riguardano la propria farmacia i propri servizi e quindi mettersi in contatto diretto con il cittadino che la scelta poi vedremo come sempre nell'area specifica della farmacia il farmacista potrà seguire poi lo vediamo aggiornamenti oppure corsi di formazione che riguardano i temi della cronicità per quanto riguarda la pharmaceutical care questa sarà una parte che apriremo fra qualche settimana e prevede tre aspetti in particolare la creazione per ogni cittadino che specificatamente ha ruolato di schede con la registrazione di terapie e delle relative posologie l'invio al cittadino di informazioni via web o via app specifiche per la propria terapia per la propria patologia e ovviamente la raccolta di dati inerenti il tasso di aderenza per misurare quello che il farmacista può il ruolo del farmacista in questo tema come si accede allora questo è l'accesso alla farmacia la farmacia accede per accedere alla parte dedicata alla farmacia accede dal portale di Federpharma www.federpharma.it entra nell'area riservata della farmacia con le proprie credenziali sono credenziali che il farmacista già conosce perché le utilizza per altri servizi dati dal portale quindi trova il tasto Dottor Pharma e qui gli verrà richiesta per registrarsi gli verrà richiesta di sottoscrivere un contratto con le condizioni di utilizzo e poi quindi accedere alla piattaforma qui quindi siamo nell'area riservata della farmacia come vedete ci sono tre distinti moduli la mia farmacia percorso formativo pharmaceutical care nel percorso formativo ovviamente saranno pubblicate informazioni di carattere scientifico dedicate al farmacista quelle del bors scientifico come dicevamo prima e gli stessi gli stessi corsi salta la slide gli stessi corsi di formazione questo stesso webinar potrebbe essere registrato e pubblicato per essere visibile da chi non ha potuto partecipare online oggi e altri FAD e corsi di vario tipo la mia farmacia che cos'è è un modulo dove la farmacia come dicevamo inserisce i propri servizi vedete che si parla di orari e servizi di promozioni di brochure quindi qui la farmacia mette le proprie specializzazioni pubblica i servizi che può esporre la propria farmacia gli orari le eventuali promozioni i volantini le programmazioni di eventi che possono riguardare anche la salute del tipo la giornata della settimana dedicata all'ipertensione piuttosto che al diabete piuttosto che la BPCO ecco per quanto riguarda invece la Pharmaceutical Care qui sarà necessaria una maggiore protezione rispetto al livello base di navigazione si chiederà al cittadino il codice fiscale se il cittadino è già stato arrollato precedentemente da quella farmacia quindi dalla farmacia che ha scelto si entra direttamente nella scheda del cittadino altrimenti gli si chiede una registrazione molto molto semplice una volta arruolato il cittadino al cittadino arriverà una mail con un link gli si chiederà di cliccare sul link per completare la registrazione con una compilazione quindi di una scheda con tutti i dati del cittadino bene da questo momento si apre quello che diciamo un dialogo specifico sulla Pharmaceutical Care ci troviamo i questionari di cui parlava il dottor Blasi questionari che dovranno essere ovviamente come dire distribuiti nell'ambito di progetti locali il cento province il progetto cento province serve proprio per seminare questi progetti locali per far partecipare farmacisti con i medici con pneumologi con le stesse strutture ASL per creare progetti questi sono progetti di screening progetti di prevenzione il questionario può essere facilmente compilato online sia dal cittadino con l'aiuto del farmacista per quanto riguarda invece monitoraggio terapia vedete che sarà ci sarà un modulino per farmaco per farmaco cittadino per cittadino per inserire la dose singola la frequenza della dose la durata della terapia vedete sulla destra alcuni messaggi che possono poi arrivare via sms o via mail al cittadino è il momento di prendere di assumere il farmaco stai per terminare la confezione e vai in farmacia questa è la scheda che riepiloga un po' tutte le terapie e questa è l'area pubblica l'area pubblica che è destinata alla vedete cittadino medico farmacia al medico gli si chiede di collaborare nell'ottica della condivisione ognuno per propria competenza condivisione del lavoro del monitoraggio e quindi da qui il medico entrando poi nella parte riservata del cittadino può anche lui visionare la scheda terapeutica e le assunzioni del farmaco per quanto riguarda il cittadino c'è tutta un'area un'area di spiegazione un'area di informazione si tratta di informazioni sia di carattere generale vedete si parla di prevenzione si parla di stili di vita e poi c'è anche un'area invece per temi specifici come dicevo prima soprattutto che insistono sulla cronicità vedete BPCO asma ipertensione arteriosa e diabete allora 100 device 100 complicazioni 100 modi diversi 100 tutorial che noi esponiamo sono dei video che noi pubblichiamo nell'area pubblica dove o da solo il cittadino oppure in collaborazione con il farmacista per ogni device c'è proprio la dimostrazione pratica dell'utilizzo e questa è l'area del cittadino che ha scelto la farmacia una volta scelta la farmacia dicevo che si apre un dialogo e qui il farmacista il cittadino può visionare le comunicazioni della farmacia quindi i servizi della farmacia qui non si vede ma comunque sono indicati i servizi della farmacia gli orari di servizio la specializzazione della farmacia verso particolari aree sanitarie e questa invece è la parte che lo stesso cittadino può andare a visionare della sua scheda delle terapie quindi ovviamente qui sarà protetto da codice fiscale e password che lo stesso cittadino ha messo e da quel momento lui può entrare visionare le sue schede terapeutiche visionare il suo calendario in base alla compilazione della scheda terapeutica si compila questo questionario questo calendario dove viene memorizzata orario e nome del farmaco giorno per giorno ovviamente queste sono informazioni che poi possono anche essere trasmesse nella seconda fase sarà sarà la cento la duecentesima app però questa sarà l'app di federfarma un'app che tutte le farmacie potranno utilizzare in modo uniforme sul territorio e da questa app il cittadino potrà che si può scaricare potrà proseguire nel dialogo con la sua farmacia grazie a tutti e buon lavoro buongiorno a tutti vediamo come sia importante il ruolo della farmacia nel momento in cui si ha il rapporto con il paziente e proprio da questo lavoro si vedrà come sia importante questo ruolo proprio il front office sanitario come la farmacia e il medico di base siano delle figure essenziali all'interno del sistema sanitario per poter dare quel giusto supporto a quelle che sono le esigenze di salute del cittadino il trend come avete visto anche da quello che è stato detto prima il trend si va verso una popolazione sempre più anziana e in valore assoluto comunque è relativo e per quindi si va per le persone avute da 75 anni ad un aumento del 25% che pare un milione e 4 di persone nei prossimi dieci anni questo sta a significare come sia importante lavorare su quelle che sono le patologie croniche degenerative c'è una una slide dove si vede da un lavoro come le persone che hanno malattie croniche gravi con più di due o tre sia sempre in aumento e come anche l'età media a volte di 75 anni sia una di quelle età dove tutto questo sia sempre in aumento quindi è molto importante dover lavorare proprio su queste patologie naturalmente la sostenibilità del sistema sanitario fino ad oggi è stata fatta soltanto applicando le taglie lineari tagliando ma non poi alla fine risolvendo quelle che sono le problematiche è necessario invece cambiare l'approccio e appuntare sulla riduzione degli sprechi ma anche su quella che è l'attività e la professionalità di tutti quanti gli operatori naturalmente in tutto questo contesto la cosa più importante è la prevenzione se si va a ragionare sul fatto che un ricovero ospedaliero costa le 800 alle 1000 euro al giorno e un anno di assistenza farmaceutica invece costa una media di 154 euro si può capire benissimo come sia importante lavorare su alcuni fattori e quindi cosa può fare la farmacia di fronte può fare naturalmente lavorare sul comportamento stile di vita salutari screening di massima che possono valutare quelli che sono i parametri della salute della popolazione e un attento monitoraggio dei pazienti cronici naturalmente la cosa importante è lavorare e quindi affrontare la discussione anche col paziente e quindi poter lavorare dare tutte quelle informazioni sui device infatti quello che ha detto il dottore Petrosillo prima è molto importante perché ci sarà a disposizione di tutti quanti una visualizzazione sul proprio computer dove ci sarà una spiegazione su ogni device naturalmente un'altra cosa importante è lavorare sulla sull'assunzione e quindi sulla complianza e poi naturalmente bisogna rendere partecipe il paziente di quella che è la sua terapia perché questo è un passaggio sicuramente molto importante perché far capire al paziente quanto sia importante eseguire in maniera giusta e corretta quelle che sono indicazioni del medico naturalmente un processo continuo di miglioramento della qualità anche della vita con pianificazioni monitoraggio votazione eventuale revisione anche della terapia stessa nel momento in cui si dovessero vedere ci sono delle problematiche i presupposti sono per la farmaceutica al Chiare sono importanti e sono quelli in cui bisogna avere sempre una maggiore collaborazione e proprio queste esigenze e proprio quello che stiamo facendo oggi dà la dimostrazione come sia importante lavorare in equipe lavorare in team e quindi con uno stretto rapporto con gli specialisti con gli universitari con i medici e con tutti quelli che appartengono al comparto è naturalmente un piano molto attento di monitoraggio per assicurare che gli obiettivi possano essere raggiunti una formazione importante per la farmacia e per i farmacisti e la condivisione naturalmente e lo scambio di quelle che sono tutte quante le notizie che ognuno riesce ad avere quindi si avranno sempre un'erogazione di servizi sempre ad alta qualità per poter avere questo approccio multidisciplinare in questo momento il momento di assistenza passato da un'officiale del CAR deve avere successo deve dimostrare da un lato di avere dei risultati positivi e quindi maggiore aderenza minore eventi avversi complianza e prevenzione degli errori terapeutici e dall'altro lato per essere anche credibile dover dimostrare anche i risparmi economici da questa slide si può evincere da uno studio fatto come l'investire in piccola parte sul farmaco possa poi contribuire invece in maniera determinante nella diminuzione delle spese per ospedalizzazione e quindi bisogna avere anche in questo caso anche dal punto di vista del legislatore un approccio non soltanto settoriale su quelle della spesa farmaceutica ma un approccio globale su tutte quelle che sono le spese del comparto sanitario perché soltanto in questa maniera si può effettivamente capire qual è il risparmio che effettivamente si viene a raggiungere i nuovi servizi la partecipazione all'assistenza domiciliare il monitoraggio delle terapie la partecipazione a campagne di scrine di educazione sanitaria testi diagnostici di prima estanza dove la farmacia mette a disposizione una serie di iniziative per poter affrontare quelle che sono le problematiche il più delle volte sommerse e naturalmente poi quelle che sono le prenotazioni le vise esami e con consegne anche dei referti le piattaforme di Federfarma naturalmente servono ad agevolare tutto questo lavoro da parte delle farmacie in modo anche da avere un monitoraggio e una raccolta di dati importanti da poter trasmettere poi al legislatore e naturalmente poi semplifica quella che è l'attuazione del lavoro nostro per quanto riguarda su quelle che sono le problematiche della ricetta elettronica del fascicolo sanitario e del dossier farmaceutico alcuni esempi sono la telespirometria l'elettrocardiografia l'olter pressorio la misurazione arteriosa domiciliare con dispositivi per trasmettere i dati naturalmente tutte cose importanti che possono specialmente nelle zone non servite dare un supporto non indifferente a quello che è il rapporto del medico di base con il cittadino il dossier farmaceutico permetterà di controllare il paziente sul consumo dei farmaci degli integratori delle regie degli eventi di farmacovigilanza dell'analisi di prima estanza quindi è sicuramente un passaggio molto importante che può far avere e dare al farmacista una carta di identità ben precisa di quello che è il paziente il monitoraggio di terapia è naturalmente molto importante e questo qua naturalmente è una rapporto di la possibilità di avere un rapporto di fidelizzazione col paziente in modo da avere in questo caso anche la possibilità di avere più notizie possibili da parte del paziente stesso per poter dare poi quelle che sono le indicazioni corrette su quella che è l'applicazione della terapia e naturalmente in una fase così complessa del momento della farmacia e di contrazione dei fatturati è un percorso inevitabile per sostenere anche quella che è l'impresa perché la farmacia è passata da un mero distributore di farmaci ad una farmacia di servizi la compleanza è sicuramente un fattore importante e si vede da questo come gli ultimi 65 anni consumo tra 5 a 9 farmaci al giorno 1 milione e 4 di persone consumo più di 10 farmaci al giorno è come sia così importante garantire al cittadino la giusta terapia perché questo significa poter non soltanto avere dei grossi risparmi dopo ma sicuramente avere delle gratificazioni dal punto di vista della attivazione della terapia stessa le cause della mancanza di aderenza da uno studio fatto alla cittadinanza attiva sono diverse e ci fanno vedere come questo sia effettivamente un settore dove bisogna lavorare molto e bisogna investire e la farmacia che ha questo rapporto quotidiano col cittadino deve fare di tutto per mantenerlo per far sì e dimostrare ancora una volta come il nostro lavoro sia importante e fondamentale infatti si vede che oltre la metà dei pazienti intervistati assumono due a tre farmaci al giorno il 10% più di 4 e comunque uno un paziente su 5 dimentica di assumere il farmaco il 22% dichiara di essere stato costretto ad interrompere la terapia per 12 giorni per diverse motivazioni per allergie perché non risulta efficace ma anche qualche volta per i costi il 18-8% di estate decide anche di sospendere volontariamente quella che è la terapia nel 56,5% per scetticismo in altri casi perché la cura diventa difficile da dover seguire oppure nell'11% dei casi perché si tratta di terapie che durano tutta la vita e quindi scoraggiano lo stesso paziente e quindi questo fa capire come sia importante ancora una volta lavorare su quanto riguarda questa sull'appropriatezza e su quello che è il rapporto con il paziente ci sono diversi esempi che possiamo portare perché fanno capire come ci sia un risparmio nel momento in cui la farmacia lavora in questo settore c'è un progetto la Consigued in Spagna che ha misurato l'impatto dell'intervento della farmacia nel controllo dell'utilizzo dei medicinali nei pazienti con politerapia e si vede come ci sia un meno 58% di problemi di salute del paziente meno 30% di vista di emergenza meno 50% del recovery questo fa capire come tutto questo lavoro che possiamo fare tutti quanti insieme non soltanto noi ma insieme ai medici insieme agli specialisti insieme all'università possa effettivamente dare un contributo non indifferente un altro studio di scienze si afferma come il passato dal 41% al 70% di aderenza terapeutica nei pazienti ipertesi possa dare in 10 anni un risparmio di 100 milioni un altro studio sempre americano dimostra come l'intervento e il lavoro del farmacista nelle problematiche cardiovascolari possa riuscire a far risparmiare anche 3.000 dollari l'anno la gestione e quindi delle informazioni sul corretto del farmaco sarà facilitata al sostegno del farmaceutico come dicevo prima che potrà dare al farmacista un quadro chiaro di quella che è la problematica del paziente e potrà essere dedicata anche in una fase ulteriore per capire quella che è la maneggevolezza e la spiegazione di tutti quanti i dispositivi è necessario naturalmente un cambiamento culturale è necessario naturalmente un approccio diverso col paziente ma bisogna puntare sicuramente in farmacia verso nuovi servizi che hanno un valore aggiunto bisogna puntare sulla possibilità del confronto con tutti quanti gli attori e soltanto in questa maniera si possono avere risparmi da un lato ma il miglioramento della salute del cittadino che poi è la cosa alla quale tutti quanti ci dedichiamo grazie allora cari colleghi partiamo con le vostre domande intanto vi ringrazio perché vedo qui da tutti i sistemi informatici che siete collegati in tanti quindi è molto meglio essere qua a Milano ma stare nelle farmacie di tutti noi o nelle case di tutti noi professionisti allora abbiamo avuto due grandi medici il professor Fanonikian che è direttore del partimento di malattie respiratorie all'Università di Genova che ci ha parlato di asma il professor Barasi che è direttore del partimento di malattie respiratorie all'Università di Milano che ci ha parlato di l'IPCO abbiamo visto con Gianni Petrosillo l'impegno di Federpharma nella digitalizzazione nell'informatizzazione infine Gioacchino Nicolosi ci ha parlato di aderenza ci ha detto quanto fanno i nostri colleghi all'estero e ci ha detto quanto potrà essere il nostro impegno per che ne portare a risparmi al sistema sanitario nazionale allora iniziamo prima di fare il punto di questo progetto centro provincia di parlare di tutto il percorso che si è fatto con GSK ci sono qui tante vostre domande vediamo se sono capaci di rivolgerle ai professori allora professor Blasi quanti pazienti con asma e bpco gravitano mediamente su una farmacia italiana e quanto tempo mediamente serve per fare un colloquio di farmacia di farmacia di carchea con un cittadino allora quanto in ogni farmacia non lo so ci sono 3 milioni di pazienti quindi dovete fare voi i conti grosso modo su qual è il bacino di utenza di una farmacia se noi pensiamo che nella popolazione tra asma e bpco considerato che alcuni malati hanno le caratteristiche di tutte e due le malattie perché essendo un'incidenza di circa il 7-8% l'asma e 7-8% la bpco ci sono alcuni pazienti che hanno tutte e due le malattie dovete tener conto che circa il 10-15% dei pazienti che arrivano nella vostra farmacia possono avere o l'asma o la bpco e quindi questo è il dato colloquio bene questo è in realtà somministrare il questionario che abbiamo visto quello più semplice che vi ho fatto vedere io o i questionari un pochino più lunghi che invece sono stati fatti vedere più tardi in realtà il questionario di 5 domande vuol dire un minuto un minuto e mezzo se volete e dopodiché questo potrebbe essere sia somministrato che in realtà lasciato sul banco insieme ai leaflet che spiegano le malattie e il cittadino potrebbe guardarlo e farsi lui stesso le domande quindi dipende da qual è l'intervento che si vuole scegliere è chiaro che se il farmacista interviene l'effetto è molto più intenso perché ovviamente rispondere a una persona che gli fa la domanda è diverso che leggere una domanda quindi io vorrei intervenire dicendo anche un'altra cosa noi altri lavoriamo sempre su quelle che sono le problematiche della fidelizzazione del paziente con la farmacia questa è una di quelle cose in cui abbiamo l'opportunità di fidelizzare il paziente cioè di rendere il paziente legato alla propria farmacia perché nel momento in cui apriamo una discussione del genere nel momento in cui proponiamo le questionari nel momento in cui instauriamo un rapporto e poi tutto questo deve avere tutta una serie di iniziative che vengono da sé dopo questo qua naturalmente crea un rapporto di fidelizzazione del paziente quindi se da un lato spendiamo due minuti nel nostro tempo che hanno anche un costo dall'altro lato però abbiamo fatto non soltanto abbiamo fatto professione ma abbiamo creato questo rapporto fiduciario che con la farmacia è molto importante e che ogni volta vede quando ci sono le classiche su quelle che sono le attività dei sanitari vede questo rapporto di privilegio che abbiamo con i cittadini allora adesso una domanda per il professor Canonica da parte di Irene Donnelli dice gli inalatori soprattutto i nuovi dove il paziente deve assumere il farmaco rilasciato dal device solo con l'ispirazione da parte del paziente sono un grosso problema questo perlomeno è il mio riscontro mi chiedono spesso perché non ci sono più i device tradizionali dove si spruzza il farmaco invece di andare avanti la gente magari preferisce quelli dunque diciamo che c'è stato un cambiamento epocale sostanzialmente passando alle polveri il che è migliore da un punto di vista tecnico curativo però implica il fatto che ci sia un momento attivo del paziente il paziente deve ispirare e quindi in alcuni casi è importante la capacità ispiratoria che il paziente ha perché si sono tolti dal commercio è perché si è visto che c'erano dei danni che potevano essere provocati era dal freon se ben ricordo dal gas che serviva per l'innovazione diciamo che chiaramente è stata una causa di forza maggiore che ha comportato un cambio totale in questo senso ancora due domande per gli specialisti è vero che se i pazienti seguono la terapia la BPCO non peggiora? se un paziente è in terapia con ventolin per la BPCO devo indirizzarlo a un consulto medico? assoluto allora il ventolin nella BPCO dovrebbe essere usato solo nelle forme acute nelle riacutizzazioni di supporto alla terapia di base non ha nessun senso trattare un paziente che ha una ostruzione fissa con un un farmaco che ha una durata d'azione di due ore la terapia della fase stabile della BPCO è sempre con i broncodilatatori a lunga durata d'azione il ventolin dovrebbe essere dato solo nelle forme di riacutizzazione anzi ci sono degli studi che dimostrano come l'uso del ventolin si è associato a riacutizzazioni più gravi e che l'uso del ventolin in realtà è un ottimo marcatore della instabilità del paziente quindi utilizzare il ventolin per tra il BPCO è assolutamente contro ogni raccomandazione se posso quando ho fatto vedere il diciamo la pianificazione d'uso del ventolin nella campagna che fanno in Australia per la farmacia c'è scritto di andare a verificare l'aderenza sulla terapia di base che il paziente fa in altri termini il messaggio è molto semplice più ventolin fa un paziente con asma meno è controllato e quindi bisogna aumentare la terapia di controllo in modo da non usare il ventolin adesso due domande per Gianni Petrosino la prima dice è possibile strisciando il farmaco col lettore ottico avere caricato il video del farmaco prescritto senza doverlo andare a cercare sulla piattaforma? sì era un aspetto che non ho illustrato nelle slide ma c'era nella fase successiva nella seconda fase prevediamo un'integrazione di queste attività con il gestionale per cui strisciando scannerizzando con la penna ottica un'IC e il codice fiscale se il cittadino è stato preventivamente arruolato e quindi fa parte di quel progetto sanitario di cui dicevamo si aprirà la scheda e quindi si apre la scheda dello specifico cittadino poi possiamo anche fare tutte le integrazioni quindi anche con i video quindi in questo caso la domanda dice se io striscio ventolin adesso mi viene metto lì se si apre il device d'evento la risposta è sì bene la seconda dice posso registrare con la piattaforma d'autofarma la reale aderenza dei cittadini certo con il modulino con con quel modulino che abbiamo visto della compilazione della terapia più posologia più calendario poi sarà il motorino per per raccogliere dati di aderenza sia nello specifico per dare l'informazione il cittadino ma poi quello che è più interessante fare una raccolta del dato aggregato per fare dei studi sugli effetti della farmacentica che è sul cittadino una domanda per Gioacchino Nicolosi come posso essere sicuro che i medici di base non si sentano ben passati? i medici di base bisogna soltanto interloquire con loro quando c'è un problema se ne parla e in questa maniera non c'è un conflitto il conflitto si ha quando si fanno le professioni diverse quando invece ci sono i problemi e si affrontano insieme non c'è motivo di poter avere un conflitto sempre a Gioacchino ci sono corsi per i cittadini? no attualmente no stiamo però penso che ci sia in itinere la possibilità di cominciare a lavorare su piccole io dico pillole di informazione per poter dare ad ogni cittadino il minimo di informazione su quella che è la propria patologia e ancora questa non so chi di voi due mi vuole rispondere Maria Zanchi come è garantita la privacy del paziente? sulla privacy è la cosa più complicata di questa piattaforma informatica il fatto che stiamo pubblicando in due fasi ricordo la prima fase già dal 18 di maggio e l'altra un pochino più avanti è proprio perché stiamo sistemando tutti gli aspetti di privacy ci sarà tutta la protezione per il cittadino perché avete visto che si parla di più livelli quindi da quel punto di vista non c'è nessun problema e soprattutto l'impostazione come è stata fatta c'è un cittadino che non ha una scheda aperta a tutti ma sceglie la sua farmacia di fiducia e con quella avrà l'unico rapporto e infatti proprio questo è legato al discorso della fidelizzazione perché chi apre la scheda rimane poi legato alla farmacia una domanda ancora per i specialisti come faccio a capire se un paziente ha l'asmo o la bpco questa è una vera domanda secondo me non è il ruolo del farmacista capire se il paziente ha l'asmo o la bpco il ruolo del farmacista è identificare il paziente che ha un problema respiratorio e poi inviarlo al medico di famiglia piuttosto che allo specialista è chiaro che un domani che si possano attivare forme di per esempio di esami spirometrici anche a livello delle farmacie magari in connessione con gli specialisti piuttosto che con i medici di famiglia a quel punto si può fare una diagnosi di ostruzione bronchiale dopodiché la distinzione della forma asmatica e della forma di broncopneumatica cronico-ostruttiva ovviamente questo è un problema che va oltre semplicemente l'identificazione di un problema respiratorio ecco proprio questo è un po' di ricarsi che bisogna fare attenzione per evitare il conflitto con il medico ecco qui ci sono anche delle domande che continuano ad arrivare Antonio Guerricchio chiede come pensate di coinvolgere di medici di medicina generale perché in provincia di Matera siamo partiti con lo screening di farmacia tramite la somminiezione del questionario un invio alla ASL per la spermatria però naturalmente quindi dobbiamo migliorare la collaborazione ancora con i medici sicuramente sicuramente beh Potenza è stato un bel laboratorio Basilicata in generale un bel laboratorio di ricerca con GSK è partito il primo nucleo di questi progetti questa sperimentazione lì si è proprio cercato di coinvolgere tutti dai preumologi ai medici di base ai farmacisti e la stessa ASL perché la stessa ASL rappresenta ecco questo è un modello che andrebbe sviluppato ed esportato Francesca Bellotto una domanda per l'autopetrosillo come si fa a prendere in carico un paziente se non ha una mail gli anziani di solito non ce l'hanno non ce l'hanno allora abbiamo detto che adesso non ricordo se il dottor Blasio o Canonica siamo verso la digitalizzazione del paziente fra 10-15 anni saremo tutti anziani tutti digitalizzati e siamo già tutti molto tecnologici poi pensiamo che comunque in casa il nipote un caregiver ci sia sempre qualcuno che possa aiutare il paziente anche di una certa parte tante sono le domande di come possono gestire sulla piattaforma pazienti che non hanno il computer queste sono molte le domande un'altra domanda il medico di famiglia si deve registrare sul portale di Federpharma il medico di famiglia può accedere a tutta l'area pubblica e poi se vuole dialogare con la farmacia e con i cittadini questa è la cosa auspicabile questa triangolazione di informazioni e allora si deve registrare e quindi dovrà potrà poi a quel punto accedere col cittadino che avrà dato il consenso al medico di visionare le proprie schede bene qui le domande continuano ad arrivare la piattaforma Dr. Pharma prevede una rete da estendere ai centri di pneumonimologia territoriale? beh fino a qui non ci siamo arrivati però come entra il medico come c'è il dashboard del medico può esserci anche il cruscotto per il pneumologo valora ecco è un progetto che può essere ambilato bene allora vedete ci state dando anche tante idee e tanti spunti allora dobbiamo chiudere perché mi fanno segnare che siamo già in ritardo io volevo quindi cercare di riepilogare quello che è stato fatto allora oggi abbiamo fatto questo webinar e voi potete scaricare il questionario sia quello di gradimento che quello di verifica e inviarlo a un fasco che è 06 8630 1311 oppure diciamo all'indirizzo che comunque è indicato nella piattaforma tramite mail questa è stata la prima fase poi diciamo avremo il FAD il FAD da seguire che partirà dal primo di giugno le piattaforme che dovremo caricare sui nostri terminali e questo sarà da partire dal 18 di maggio e infine penso subito dopo l'estate dopo l'estate quando tutti noi avremo fatto il FAD partirà il vero progetto di aderenza quindi continuate a seguirci è stato bello stare tutti insieme a parlare di l'IPCO di asma è stato interessante farlo con due grandi medici ed è quindi un grande ringraziamento anche una grande azienda farmaceutica con loro abbiamo iniziato a fare tanto il rapporto che sapete tra le farmacie le aziende farmaceutiche deve sempre più consolidarsi su questo Federfarma sta lavorando con GSK abbiamo fatto i questionari con GSK abbiamo fatto il progetto 3C con GSK stiamo facendo il progetto dalle 100 province con Daniele Finocchiaro presidente amministratore delegato di GSK abbiamo firmato un importante protocollo che ci deve portare a riportare le farmacie all'interno a portare le vaccinazioni all'interno delle farmacie continuiamo a lavorare tutti per una farmacia migliore e per un ruolo sempre più importante del farmacista nella cura nella prevenzione medici farmacisti aziende farmaceutiche insieme grazie di essere stati qua e buon lavoro buon lavoro in farmacia continuiamo a fare il nostro lavoro con passione con grinta con impegno come abbiamo sempre fatto e buon lavoro per un ruolo per un ruolo per un ruolo per un ruolo